Allora andiamo sotto l'altro, Miriam vai a prendere la pala Su muoviti E qui è in ginocchio Scala Questa è proprio una lenza Sì, posso parlare? Mi fai parlare? Posso parlare? Mi fai parlare? Tu non puoi farmi questa Samantha Perché sarebbe una ragione delle popoluzioni spaventose Ma no, ma fa la rovina io qua Ma che dici? Scusa, scusa di chi è il casale? Tu o dei tuoi fratelli? Oh, e che ho sposato io? I tuoi fratelli o te? Oh, allora Amore Senti Samy, cerchiamo di ragionare Baby, senti Pronto? Tegli la luce e va a dover me Pronto? Stronza! Dio, mette la ceglia Mette la ceglia Eccola qua Lontano, lontano Almeno tu vieni la distanza Almeno guardiamo quello che c'è dentro E' vero, per vedere Questa la vado puntata Il mio personale Si fanno Si fanno Dottor Faracco Permetti una parola un attimo Arrivo Facce largo Facce largo Dottore Cosa succede? Te ne vai Te vanno andate a corsare Ma sta dai casini fino al collo E mi lasci solo con questi cannibali Nella questione di vita o di morte Tu non sai che casino che è successo Tra i miei mogli I miei cogliani Guarda Poi te ne vai a fronte di Poi te ne vai a fronte di Poi te ne ho presto Sì Ok Portatemi anche questo Che va bene E' una roba di Paolone Montala mia Tu ti la preghiera per me Capito? C'è un bisogno Mome Mome dove sei? Dove sei? Mome Mome perché non torni? Avete visto il mio gattino? I gatti Mome Ma dove vai? Ma vengano cerchiamo Ma vengano cerchiamo Mome Mome Dite la verità Tu sei mai nato il gatto? Scusate Io stiamo chiudendo Non ci andiamo a mettere La parte ce l'è Io faccio soltanto una domanda Che taglia la testa al bordo Digni il casale Ripeto Ti chiede il casale E la monetica Voglie Forse ti commette Ora Troppo aspetto Te l'abbiamo convinta A farci la procura Così adesso Non cosa ne seguiamo Lui e finisce pure Questa scena è già Questo è plagio Questo è plagio Per me La Kepela Sì Sì La Kepela Sì Poi la c'è Trafitta al primo giorno Sì E ti sei fatto Mi hai preso Quel cesso di bottega Che ti ritrovo Però con i soldi E ora la roba Della clinica Noterate i termini Perché la mia è un'impresa No? Sto a pulita Sto a pulita E io da un mese C'è un'entra Che voi nemmeno Immaginate Gli sto negozi A occhi chiusi Ve lo porto No 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 Guarda che non dobbiamo Immaginarci proprio niente Sai perché? Perché domattina Andiamo con Samantha Dall'Italia E tu domani sera Devi smammare Da quel casale Con quella tua Truppa di lardosia Hai capito? Scusate ma Invece di starci a scannare Perché non ragioniamo Un po' Da rezzone ducane Di stile Affrontando un certo discorso Eh? Ecco forza Ma sentiamo il duca di Kent Così ci convince a tutti Io vi invito a riflettere Sulla cosa Va bene? Che vostra sorella Sei impegnata Per centinaio di milioni D'accordo? In liquidi e cambiali Se voi mi fate chiude È una tragedia Veggio di Cernopil Eh? Capito? Senti Meglio una tragedia Da 370 milioni Che una catastrofe Da 2 miliardi Perché così Ti va a finire a te Stammi a sentire Signor medico Da quattro soldi Tu devi restituirci Il casale Esattamente come era prima Perché a noi serve Serve la nostra famiglia E poi devi restarci Nonna in santa faccia Mentre tu la stai torturando Io? Ma se c'è una Che mi sta a fattupare Così è qua Vecchio Cosa? Prima Non fai saltare Adesso ti puto nel congelatore E ti venda come la torsola Sì eh? Allora sapete che ti dico Violenza per violenza Io Senti callista Adesso sbattai Capito? Sbamma E non far più Vedere Guarda che hai sbagliato angolo Riuscite dall'altra parte E non mettere più i piedi qui dentro Ma non finisce qui eh Che cos'è? Una minaccia? Forse Ma aspettate che fila Cosa stai facendo? Perché non si fa i cavoli suoi Dottore? E questi sono appunto A cavoli miei Signora? Ma cosa stai facendo? Niente C'è da un nido Qui è Fame Niente Fame 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 Il mio figlio di discepoli Prese il pane Lo spezzò E disse Per il mio figlio di discepoli Operati allora Miriam Sì dottore Quanti erano i pesci? 12 Ne sono rimasti 5 Andrà Purtroppo Se li mangiano Vai a prendere il rettino E buttali nel fiume Subito No dottore No Dottore Forza A giramento Tedessa Ma come si affanno La vista Con delle scintilleggiate? Non Bene Questi Ma non Non risponderò più Dai vai avanti Non ti fermare Si possono mettere In un angolo del tegame Pezzi di patate Lasciandole cuocere Con lo stoccafisso Dimescoleremo a piacere Pinoli e un vetta sultanina Lo stoccafisso All'alcoretana E anche ottimo Si è accompagnato Da fette Di colai E basta No no Si sono qui Ti ripeti Scusate Non ci sto con la testa Ma che ho firmato? E' la richiesta Al magistrato Per fare accorre i sigilli Al salumi di Ciotroncarelli Ma perché? Come perché? Assessore Il salumi di Ciotroncarelli Mette in commercio Dei salumi adulterati Ecco Ci sono legate anche le perizie Guarda Ecco guardi Questo campione Contiene 30% di secco E tracce di botulina Ma no 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 Questo è buonissimo Assessore Non lo faccio Assessore Ce l'è l'assessore Di orizio Di riniti Nel sacco Leggi che fai schicchi Non ci metti pensiero Non ci metti sentimento Non ci metti un cazzo E allora Leggitelo da solo Scusami Scusami cara È la prima volta Che mi tratti così Non lo faccio più Giuramelo Ma provaci tu Sei il suo marito No No Io in questo momento Sto fuori gioco Soltanto te gli vuoi impedire Firmare la procura Lo vuoi capire Silvano Diciamoci la verità Tu c'è una scendente Su direi Dai Inutile regalo Dai Ti prego Aiutami da questa orina Ti prego Aiutami Silvano Ma io non posso mollare tutto Questi vanno guardati a vista C'è già qualcuno Che sta dato i numeri Sì d'accordo Sta succedendo un casino Raggiungi Va bene Appena posso Appena posso Ciao Ciao Dottore Corre È successo la pergente Sì sì ho capito Lo so Lo so Te ve lo dico Che cosa ha combinato Lo sai cosa costa un attrezzo del genere Non è colpa mia Un bambino mi ha attraversato la strada Quattro bamboccioni dovranno darsi una mossa per diventare Sì Con Diego Batantuono Belli di papà Questa sera alle 21 Ciocine 34 Arrivante Sto preparando la mia specialità Mi piacevo che ami ti dà pesantezza Con fiore Con bruciore di stomaco Malox Plus Più sintomi Un rimedio E un vero Il flusso sale Malox Reflorabile Inizia ad agire in 3 minuti Abbiamo la Vodafone Se porti un vecchio telefono Puoi avere un nuovo Samsung Galaxy S22 Ragazzi Il plus smartphone però Con Vodafone Tech E il meglio della tecnologia Come il nuovo Samsung Galaxy S22 Scopri la florata a partire da 4,99 euro al mese Nelle canse Vodafone Il laser integrato nel nuovo spirapolvere Dyson Rivela le particelle invisibili di polvere E i filamenti in fibra di carbonio Le catturano Ecco la prova visibile Scegli il modello più adatto alle tue esigenze Registra il tuo prodotto su Dyson.it Indie.com pubblica più di 70.000 nuove offerte di lavoro al mese per tutta Italia Cerchi il tuo primo lavoro Il lavoro dei tuoi sogni O semplicemente un nuovo lavoro Trova quello giusto per te su Indie.com I miei occhiali filmano Il mio superpotere Mostra il tuo potere Occhiali Su l'ace e il pulito spumeggiante Spaghettino con la marmelata Che non io la ricetta Prova il nuovo ace spray mossa La prima gandicina ace in mossa Precisa e non cola Anche sulle superfici verticali Tutta la casa La camiglia ace La ogni è pulito Il suo ace Hai presente quando dopo un'infinità di riunioni Arriva finalmente la pausa pranzo E vuoi passarla col tuo sport preferito Che aspetti Riempi la tua vita di grande calcio Su Mediaset Infinity Resta sempre aggiornato sulla tua squadra del cuore Non perdere gli highlights di serie A E tutti gli approfondimenti Che fame Nascendo un'infiammazione